Inaugurata stamattina alla strada sotterranea del castello di Vigevano, la mostra dal titolo For You e ho qua con me gli organizzatori. Ciao! Ciao, io sono Gaia Rotango, presidente dell'associazione Art on Stage, che ha seguito l'organizzazione della mostra. Ecco, di che mostra si tratta? Parte di fotografie che ho visto? È una mostra che raccoglie fotografie di scena di Lins Day Camp, disegni originali realizzati da lui stesso e degli abiti di scena dei suoi spettacoli. Ecco, una mostra che inaugurano oggi e continuerà fino? Fino al 12 maggio. Grazie, grazie mille. Abbiamo qui con noi... Daniela Maccari. E David Houghton. Ecco, un vostro pensiero su questa mostra? Io ringrazio tantissimo chi l'ha fortemente voluta, Gaia di Art on Stage e Roberta Sala. È un regalo bellissimo per l'Inzi e che l'Inzi ci fa a tutti noi con tutte le sue opere. Ieri era il compleanno, quindi mi sembra che lo festeggiamo benissimo. E il titolo è proprio voluto da loro, che lo hanno conosciuto bene, perché erano le parole che usava più frequentemente. For You, fate capire che state danzando, che state dedicando qualcosa a loro. Fate di ogni gesto, di ogni disegno, di ogni movimento, un regalo per il pubblico. E vediamo anche molti nelle fotografie, nei dipinti, molti abiti di scena. Sì, alcuni, ma proprio accenni per ricordare la combinazione delle foto di lui in scena. Lui che ci ha lasciato l'anno scorso, ieri era il suo compleanno, quindi per noi era il nostro regalo a lui e lui il regalo al pubblico. È molto importante. Sì, e quindi si vede tutte le sue trasformazioni come grande interpreta artista. E anche i suoi disegni, che sono molto minimalisti, però mostrano la sua gioia da vivere. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie.